Oggi tre punti fondamentali contro comunque un avversario importante. Sì, abbiamo risultato una bella partita contro una squadra attrezzata e abbiamo portato via tre punti, una cosa fondamentale. Tre punti anche grazie al merito dei giovani che stanno crescendo sempre più. Sì, abbiamo una squadra molto giovane, siamo una buona squadra che lottiamo tutti per lo stesso obiettivo per ogni domenica ottenere i tre punti. Domenica un'altra partita a casalinga contro un Molassana che si dimostra una squadra attrezzata per la categoria. Sì, sarà un'altra battaglia da cercare di conquistare la vittoria. Sì, sarà un'altra battaglia.